E' l'ultima giornata di campionato, è una partita importantissima, il verdetto per il titolo italiano è ancora aperto, il Milan c'è, il Milan ha fatto di tutto per farci, ha le prime 37 giornate di campionato e deve confermarsi anche sul campo del... ... ... Raffa? Se ne va Raffa? Raffa solo per il portiere Raffa? Fa la messa in mezzo Gís Rú Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti